Sì, siamo qui proprio a due passi dal palazzetto, forse lo vedete alle nostre spalle, palazzetto dello sport che da qualche momento è sede, da circa mezz'ora, sede operativa del centro di coordinamento di tutti i soccorsi. Purtroppo siamo costretti ad aggiornare fin da subito il bilancio, il primo bilancio delle vittime che sarebbero salite a quattro. Proprio mentre noi stavamo per collegarci il capo della protezione civile Fabrizio Curcio stava parlando ai colleghi proprio qui a qualche metro da noi e ha detto ai colleghi appunto che le vittime accertate in questo momento sono quattro, due le persone che sono state estratte dalla neve, insomma sono state salvate e che sono ricoverate in ospedale con segni di ipotermia. Mentre sono purtroppo, ecco questo è il dato preoccupante, ancora una trentina i dispersi tra quelli che erano gli occupanti, gli ospiti dell'albergo e quello che era invece il personale dell'hotel Rigopiano. Questo fronte di 300 metri ha spazzato via tutto quello che si è trovato davanti arrivando fino all'hotel entrando in alcuni ambienti appunto i soccorritori già dal tardo pomeriggio di ieri sera nonostante i ritardi che poi documenteremo anche nel Tg sono poi arrivati e hanno continuato a lavorare ad oltranza. Sempre Curcio diceva che lavoreranno ad oltranza anche questa notte finché sarà possibile, finché non sarà accertata tutta la situazione. Un fronte di 300 metri di valanga che è stato scandagliato per quasi tutta la giornata di oggi da varie forze in campo, dal soccorso alpino e speleologico, visite del fuoco, la guardia di finanza tra i primi ad intervenire con i sondini al carbonio per capire passo dopo passo dividendo il fronte valanga in segmenti e settori dove era possibile trovare o comunque cercare per quanto possibile le persone sotto la valanga.